Ehm, cioè, nel senso... Vatti 5! Guarda, sono in competitive e quindi ne approfitto giusto per fare così, però vabbè, non cadere, grazie Grazie Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Lo so ragazzi, non ho fatto video per ben due settimane, ma sono rinziati i corsi all'università, sono stato molto impegnato alle solite cose Oggi faremo un po' di competitive come piace a voi, bello fresco Peccato che ragazzi lo farò sempre nel mio stile, quindi molto casual, molto senza mani, però ce lo faremo andare bene L'obiettivo di oggi è raggiungere almeno 800 punti in arena Mi raccomando, se queste tipologie di video vi piacciono in cui giochiamo in arena, lasciate un like Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti ti perderete i prossimi video Non perdiamo però ancora altro tempo, andiamo in game Al volo ragazzi, ovviamente vi ricordo di inserire all'interno dell'item shop il codice catore fortu, così come lo vedete schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Mi raccomando ragazzi, il codice è rimettetelo anche se l'avete già messo perché ve lo levano ogni 14 giorni Ah, insomma, allora startiamo ragazzi, senza perdere tempo Allora signori, questa cosa è piuttosto imbarazzante In pratica, mi sono fatto 335 punti Ma li ho registrati con l'audio, tipo, baggadissimo, tutto strano Perché in pratica mi si è impallato l'elgato Quindi, insomma, partiamo da ora Cioè, mi sono fatto tipo onorare il gioco, ma partiamo ora Ma tranquilli che non c'è stata nessuna vittoria, eh, comunque Sono di l'arena di senza mani, ma comunque ci sono state vittorie Bella, fra Bella, bella jump, grazie C'è un tizio in testa, eh Pozze piccole, grazie Attenzione, l'ho sentito nella casa Ma infatti ce sta A voglia se ce sta Cioè Nel senso Batti 5 Batti 5 Niente 5 Guarda, sono in competitive e quindi ne approfitto giusto per fare così Però, vabbè Ti ricorderò per sempre, Bruce, scusa, mi ho dovuto Lo sai che odio fare queste cose da tryharders, ma ho dovuto Non sei tu, sono io Ma salve, ma salve, amore della mia vita E t'è andata male, brother Ehi, ma questo sta scendendo, non va Oh, se fai da no Aspettatemi Ti prego Salve ragazzi, come va? Tutto a posto? Guarda come cerca di scappare, brother, mi spiace Oh, mitraietta, buono, grazie Altro? Aspettate, vediamo qua che c'è Non mi pare ci sia un upgrade particolare da fare Se non questo, forse, è l'unico upgrade che mi sento di fare Se mitraietta mi dà più un senso di, capito, pericolosa Magari non distrugge le strutture alla stessa maniera, però Ah, c'è un tizio qua sotto Vabbè, me lo dicevi Te venivo a più a prima Mi spiace, bro, questo era mata 266, scusami Veramente scusami, mi sento incolpissima Che è tutta sta aria particolare? Perché c'è tutta questa nebbia? Fortnite, ti prepari per l'evento di Halloween? Uh, ho tutta sta nebbia ma ha visto solo lui Ah, no, in realtà il ragazzo si è preparato, ecco Vai, vai, oh no Ma mannaggia, quella grande Ciao Statemi ben Perché non parte l'auto? Vai E su che c'è pure le ruote da motocross qua Come cavolo si dice Non cadere, grazie Grazie Uh, che è stato? Ah, si è aperto una rift Mamma mia, che ansia Eh, usiamola, dai, tanto Cioè, non è che abbiamo tanto da fare Uh, ma, ma, non è una Non è una rift Uh, c'è No, ma mi stanno a sparare Uh Non sapevo funzionasse così, ragazzi Ragazzi, questa la devo vincere Cioè, mi devo buttare Tipo aggressivo di testa Vi giuro, devo stare proprio Devo stare proprio con l'asciugamanino Che poi in stanza fa un po' calduccio A dirla tutta Medikit Ottimo, posso lanciarlo in faccia a nemici E chiedere pietà Eh, fra, questo era un giochetto Che facevo io un po' di tempo fa Ma, fra, ma, tipo, mai Cioè, ma, tipo, scordo No No Ma, cosa mi dici, bro? Ma, dai Ma, mi ha distrutto un sogno, credimi Ma, grazie di avermi costruito Ah, è bello questo 54 Ti piace? Scusami, ma se faccio tipo una cosa Ma da dietro io non ci posso credere Sfonda Lo sapevo Io lo sapevo Basta Quanti siete? Si contano? Cioè, si riescono a contare Stedirsi Muori 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 Quanta vita hai Allora Signori cari Qua mi sa che ho fatto una cavolata Qua mi sa che ho fatto la cavolata Ok, sono vivo Miracolo Non ci credo Non ci crede nessuno Io, ragazzi Giuro Su qualunque cosa Vogliate Che ho piazzato il muro Ma se c'ho 60 di ping Come se stessi giocando Su due giochi diversi Allo stesso tempo Oh, ragazzi Io ve lo dico Eh, 800 punti Mi fermo Per oggi va bene 800 punti Dai, solo Solo gli altri 115 Dai, solo gli altri 115 Non rompere È andata male, Fra Non è proprio fraintesa stavolta Fra, il fatto che non gli sia arrivato un proiettile È una cosa che mi fa così incazzare Ma è veramente ridicola Ma è morto? Che ha fatto? Ha scappato Ok Devo risalire subito Non c'è nulla che mi interessasse Bello, sto 105 Frate, è piaciuto Eh, pushami, dai Non mi pushi più Fai tutto il simpaticone Che costruisci Fai La diamo un po' Bravo, bravo, bravo Complimenti Buono Ok, altri 25 punti Ok Altri 10 punti Mi piace Mi piace sta cosa Vabbè Raga, 800 punti Li abbiamo raggiunti Siamo 20 Quindi vediamo se riusciamo almeno a portarci sto game A casa, su W22 Vediamo che posso fare Io non credo tanto però, eh Questo mo' sicura Se è una pozza grande Il premio per la persona più intelligente va Giovanni Probabilmente questo tizio si chiama Marco Però lo chiameremo Giovanni Ah no, si chiama 822 io Ok Problemino, eh, quello C'è, sopravvissuto Qualcuno mi spiega come diamine ha fatto sto tipio Cioè, secondo quale logica umana? Dai Fammi entrare Bella Devo fare in fretta perché questo aveva un tizio che lo stava inseguendo Infatti La safe è lontanuccia, eh Io non ho jump né nulla Nooo, per quanto Mettite di vita Basta per oggi Ciao Sì, ma ti riporto pure come play Basta ragazzi A posto E vabbè ragazzi Che dire Cioè, nel senso Frustrante abbastanza Però ci siamo riusciti Abbiamo raggiunto 815 punti in passa Vabbè ragazzi A questo punto vi ricordo di lasciare un like Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E di attivare la campanellina Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social Instagram, TikTok, Twitch Trovate tutto in descrizione Nella sezione Social e live streaming Perché sì ragazzi Streamo anche su Twitch E noi ci becchiamo Questa settimana Per un video ragazzi Addirittura su Clash Royale Lo so Non ve lo aspettavate Bella boys Ciao